Sono secchi tutti. Quello devo mettere? Metti il tiro 8. Allora, uno, due... Didi devo mettere? Sì, ma non... Fai questo! Ok, ma non devi fare quello. Fatti dietro a papà. Nell'amello si contro mettevi le corazzate, così fino a quando si muovevano. Poi vedi, il piano va bene farlo, ma dopo ogni partita c'è un'altra cosa. Tante volte, come è successo la volta scorsa, improvvisi in un certo modo e li fai dire. Eh ragazzi, ma è così alla fine? Perché non c'è uno standard per partite, secondo me. Allora, secondo me, da quel poco che so, l'unica cosa è mai andare da soli e coprirsi un colaggio. Dopo... Il resto... È storia! Lo abbiamo fatto. Siamo respawnati di merda. Anche prima abbiamo fatto una partita con Ermi, lui... Ehm... Non fai gli spam, comunque... Bisogna coprire, bisogna coprire. Noi... Stallo da dov'è che... Dov'è che siamo respawnati? Mi sembra lì dove sono qua. Lo spawniamo da qua. Lo spawniamo da qua. Lo spawniamo da qua. Ok. Avvicinatevi intanto per 60 minuti e avvicinatevi nel respawn. Così... No, Bacchi, domani devo andare a lavorare? Sì, ma proprio... Nel tempo parliamo. No, era per i 60 minuti. No, ma sì, ma... Per una battuta. Allora, volevo... Dopamente. Scusate... Volevo... Ehm... Parlare con tutti quelli che... Che... Ehm... Diciamo partecipato al... Diciamo al torneo. E che cosa è che hanno riscontrato di negativo, che cosa è che hanno riscontrato di positivo su questa mappa. Cosa vorrebbero fare e cosa non vorrebbero più fare. Ad esempio, Scaglia. Al di là del... Che mi sono impantinato lì che a un certo punto... Allora... Il discorso è che i CAP sono sulla catena montuosa. Sono qua. Uno e quattro... Aspetta un attimo che metto in pausa... ...sta applicazione. Allora...